ok allora andiamo in campo giù allora pokemon ci può che non le trovo più aaron? colpo karate morto stacchito tailov dovrebbe essere più veloce dovrebbe autospidare machop ancora sto zubat basta mi arrendo per un altro zubat mi arrendo ora mi tiro fuori medit Makoita appunto Abra ho dato Abra al posto vita al tiro boom tiro su Abra pokemon Makoita i big giri di pokemon cavolo aaron al 12 morto guardate cosa si fa per fare xpare Abra a che livello ce l'hai? a 14 dovrebbe salire mo è calato no no appena si evolve impara qualcosa adesso ah si impara la confusione tipo no psichico no vabbè impara la cosa dai basta usare super pozione si no la mosso più potente di tipo psichico subito lo impara che è bene a daron non li sto facendo un emerito cavolo no ti consiglio di non utilizzare mostre tipo fuoco allora no non sto usando fuoco sto usando zubat eh grazie tanto allora non puoi pretendere di fare qualcosa con zubat non c'è mosse buone contro di lui questo sto rodendo con super suono ah vabbò quello si oh ce l'ho fatta e il mio trucco per allenare poi come funziona sempre è un po' lunga come cosa però ci sta oh ferrarti dimmi che mi stava prendo allora lanciamo di subito una pokeball vediamo se lo prendiamo al volo 1 2 3 acchiappato vai eh già eri contento eh eh ero poi che facevi i salti di gioia natura schiva eh attento a non scrivere troppo che pokemon rasaterra proprio ok io so stupido potrei usare il repellente però user left your channel allora andiamo di qui paparaparà paparà 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 vai cambia il scan allora era all'altra scuola con me managgio paracere ma dovrebbe essere knock out vabbè che la insegna double flash oh ho trovato pietrastanti dove non c'è il sì eh no pietrastanti serve più che altro per ma non è vero lì è pietra lunare eh serve per bridare ah te l'ho detto che sono rugginito eh no e non le potevi sapere manco adesso oh ora si trova andare questa cosa qua chiaro si evolve al 26 qua 24 te tipo e poi al 30 a 40 non voglio ma cuita basta come se ha le mans al 50 vabbè si vabbè per farla volvere salamas c'è un part salve poi c'è bugon sheldon si sheldon poi ti arriva una com'è che diceva non mi ricordo ma zing eh si ma zing ma zing allora poca ma cuita se mi ammazzia ora ti ammazzate c'è shizor eh l'ho sciso aia l'ha scioltata oh l'ho trovato rocco finalmente buongiorno ah si chiama steven bracobal vatti che questo nome era più simpatico no? volendo possiamo usare anche abbra con il tele trasporto anzi che sprecare una poche eh è una fonda di fuga eh allora abbra a destra vediamo sulle mosse per trasporto non puoi farlo ora è bugato che buccio di culo con il telefono di fuoco che è quella che hai trovato all'inizio no ma guarda ci abbiamo un culo guarda eh aspetta che arrivo anche io allora nel frattempo i pokemon e fu così che torna subito su ok ho preso anche io aaron ah ma allora sei già dentro la grotta si 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 io ero ancora convinto che ero in palestra eh vabbè che può che essere lenti ma tutto ciò Sibley questo è bello cosa? Sibley chi? Sibley quello con i zafferi al posto degli occhi Sibley Sibley eh no eeeh si incontra ombra natura mi deve essere mia ma è lì nella grotta non si scherza? eh si? no ma ora me lo vengo a prendere l'ho appena catturato no forse l'ho appena catturato non lo so ma dove sei scusa? sei già scegliato dalla prima scala? eh si ma che io non l'ho trovato no ho sbagliato l'ho shootato cos'è è raro scusa come poco no dimmi che ne incontro un altro ma while non lo voglio ma while non mi interessa non c'è la mega evoluzione qua vabbè anche ma while non è male eh si ma non c'è la mega allora linkada tasto destro mosse flash provocazione roto abbra il mio provocatore rama while ma non lo voglio se lo catturò bene se non lo catturò ama ma a che piano sei? secondo dovrei essere mega assorbimento via vattene via voglio se blei dov'è se blei? non mi viene una tristezza voglio se blei? ufff ma vuoi chiamare while sei aron vai trovo un altro aron sto trovando più aron che il resto vi trastante salve un altro aron questo video lo chiamerò solo e sempre solo aron devi salire di un altro piano run per trovare se blei? si si se no dove c'è shigo dove c'è la pietra stante sono praticamente eh la si trova aron? ho detto sto video lo chiamerò sempre solo aron a me è sempre solo zubat mannaggia basta ma tu almeno il nome while e sablay li hai trovati io no hai ragione un po' tu vai steven avrà quando lo volevo non lo trovo mai mo che non lo voglio lo trovo sempre vabbè avrà usata l'asporto vabbè allora che cazzo tanto valeva come facci far fuga no? eh basta aron uo 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 io voglio si blei non sento ragione puto sberle tesa aaron che vuole aaron vieni sciuttato anzi no perché sono simpatica cazzo sei liberato si blei vuoto? si vediamo se riesco a catturarmi per l'altro mi piace perché è un ottimo difensore fisico ti fa wheel of wisp? basta non puoi fare più nulla hai detto ho fatto troppo danno no dai perché non ti fai prendere mi sa che domani mi metto a breedare mi siblei e magari qualche scarto di breeding lo do anche via perché? è così magari se qualcuno lo vuole ecco non ho più pokeball inizia e dai sto mio wail ti fai prendere o no qua c'è sberle tesa e l'ho one shot quindi non mi conviene neanche allora abbro viene qua teletrasportami via non puoi esaurlo ora no c'è vero c'è ragione ho potuto fuori di fuoco usa e dai non ti fai prendere o no aspetta dov'è che hai preso l'amo vecchio? eh dal pescatore che c'è vicino c'entropoco e' vicino alla palestra ok ti è riuscito a prendere questa play? no alzi arles si mi sta venendo la tristezza mi sto ritirando come wail fizzate sto prendendo un po' con i cittadini da città dopo per me non posso pure andarci ma la tristezza poi si play non ho pokeball cazzo l'avevo quasi preso cos'è che mi ha dato? siamo vecchi sherpa seta potenziale mosse di tipo normale sherpa seta? ehm ehm e dai all'ultimo si è liberato mi si è scritto che spiega no no ma se non l'ho cattura adesso l'ho one shot basta mi ha rotto le palle nooo ma quello non e' utile qua ma si ma perchè le voglio catturare tutti ah vero c'è ragione oh basta mi ha rotto le palle dai guardate ragazzi ma guardate ragazzi ma cosa devo dire hashtag mi ha rotto le palle via aspetta allora quindi prima era un hashtag comprato io da Kim beh scusa io ho usato il repellente e ho trovato lo stesso un po' che ho conservato non spieghi come cazzo vabbè lasciamo stare ragazzi evitiamo commenti inutili no vabbè è possibile che ti recapitano solo che è in minor presenza due di fila adesso in questo momento ah ok no allora no dai su esci dalla grotta esci esci via adesso non lo sto più beccando si vede che era un bug momentaneo no l'ho beccato adesso ma io parlo sempre quando non devo parlare vero se sì ma ci sono paparapam a e adesso dove mi puoi comprare il pokeball io c'ho quattromila e novecento e venti due otto mila quattro cento e su nemmeno io ho preso 21 pokeball Allora fammi curare i pokemon va e poi avanza la barca finché la barca va lasciala andare Perfetto bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo episodio mi raccomando ricordate di commentare di mettere un bel mi piace Di condividerli e di seguirci sulle nostre pagine facebook google plus twitter e instagram ci vediamo nel prossimo episodio Da chi è un buon annunzio è tutto e da Fabio è tutto No non è tutto Ciao a tutti Ciao ciao